Il TAR ha sospeso la delibera relativa alla TIA straordinaria, ma adesso i cittadini cosa devono aspettarsi? Per la verità i cittadini si stanno domandando giustamente. Allora, facciamo una breve cenno. Il Consiglio Comunale e l'amministrazione ha deliberato con una delibera del 2012 l'aumento, il recupero della TIA del 2011. Sono arrivate le cartelle, molti cittadini hanno pagato, altri invece hanno trovato varie strade, tra cui c'è quella del Confcommercio che ha fatto ricorso, tre commercianti hanno fatto ricorso. La notizia è di oggi, ma venerdì il TAR ha sospeso la delibera per un giudizio che avverrà a gennaio del 2014. Questo che significa e cosa comporta per noi contribuenti? È una domanda che ci facciamo e che mi hanno fatto molti e che io rivolgo all'amministrazione, perché l'amministrazione è uscita dicendo che però la sospensiva vale solo per i tre ricorrenti. Ora, è un'interpretazione molto tecnica e un'amministrazione corretta dovrebbe dire se l'atto viene ritenuto illegittimo poi vale per tutti. Ma, visto che siamo in una fase transitoria e quindi bisognerà aspettare il giudizio, i contribuenti che hanno pagato, e sono molti, si domandano, in presenza di un giudizio negativo, e cioè se il TAR poi dirà che la delibera è da annullare perché è illegittima, cosa farà l'amministrazione comunale? Obbligherà i cittadini e i contribuenti che sono stati magnanimi, che hanno pagato per tempo, che sono andati incontro alle esigenze dell'amministrazione e quindi li obbligherà per avere un risarcimento a un'azione amministrativa presso un tribunale ordinario oppure, come dovrebbe essere, fare un'automatica restituzione dei soldi. Certo, stiamo ragionando con tutto il sé, però sarebbe anche giusto che oggi il sindaco, l'assessore competente e il presidente della commissione finanze lo dica oggi quello che può succedere e se succederà in questo senso come si comporta l'amministrazione. Anche perché ricordiamo che il sindaco disse che fra dieci mesi ci sarebbe stata la restituzione. Quindi in presenza di un pronunciamento negativo a gennaio credo che sia normale che l'amministrazione debba restituire autonomamente i soldi a chi ha pagato.